Noi nel fare le cose ci mettiamo oltre la passione, il cuore e anche la faccia. Perché questo lavoro l'abbiamo scelto per la nostra passione e lo facciamo con amore. Grazie a tutti. E questa è solo una parte della nostra squadra, l'altra parte molto presto rientrerà. In mezzo al mare non è solo pesce ma è anche pasticceria. Perché noi ci crediamo, ci crediamo davvero. Pesce fresco, spilettato al momento. Pesce fresco, spilettato al momento. Pesce fresco, spilettato al momento.